Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella stanza delle lettere dove ci sono tante reliquie di Padre Pio in questa stanza. Su questa parete le lettere giunte qui in santuario in un anno circa, negli anni Sessanta. Oggi qui per leggervi la testimonianza di Veronica, Veronica incoronata Bolumetti, che ci ha voluto scrivere e condividere con noi questa grazia ricevuta. Lei ci racconta che ha 36 anni ed è venuta al mondo per grazia ricevuta dall'intercessione di Padre Pio. Suo papà Pietro, Poliziotto, Antonietta Franca, la Torre Casalinga, la mamma, si sono sposati nel 75, il 3 maggio, ma nel loro matrimonio c'era qualcosa che mancava e questo un po' andare a completare la famiglia, appunto mancavano i figli. Passarono circa dieci anni dal loro matrimonio cercando di rassegnarsi, ma la speranza non l'avevano mai persa e non si era mai spenta. Una sera, come tante, racconta Veronica, mamma recata in salotto davanti alla colonnina che sosteneva la statua della Madonna, ecco pregando, disse io mi vedo tre figlie femmine intorno a me e tu me le devi dare, quasi con insistenza chiedendo questa grazia a Maria. Il papà, che era anche radioamatore, la sera si intratteneva a chiacchierare con un certo Michele, molto giovane, che saliva spesso qui a San Giovanni Rotondo con i suoi amici colleghi della polizia. Chiudendo il microfono, una di quelle sere, la mamma preoccupata fece sentire involontariamente la sua voce dicendo fai attenzione, perché insomma dovevano salire la montagna a fare queste lunghe passeggiate. Allora Michele, ascoltando la voce della mamma, chiese a suo padre chi fosse la donna che aveva ascoltato e il papà disse mia moglie, allora voglio venire a salutarvi, voglio incontrarvi visto che si è preoccupata come se io fossi uno di famiglia e così Michele un giorno si presenta a casa Bolumetti e Michele era un sacerdote, è un sacerdote. Papà così lo invitò a conoscere la mamma e i genitori erano molto felici di ricevere un sacerdote in casa e questo sacerdote si aspettava di essere ecco in una famiglia dove c'erano anche i bambini allora lui fece subito la domanda, beh allora dove sono i pargoletti e qui un po' si andò a spegnere quell'atmosfera di felicità proprio perché non c'erano i bambini e allora subito Don Michele disse perché non venite a San Giovanni Rotondo noi abbiamo il nostro padre Pio, conosco il primario Pavone che era confidente di padre Pio vedo di farvi ricevere per una visita e così i genitori con questa fiamma sempre accesa della speranza vanno dal primario che prima dà una cura alla mamma ma vedendo che la cura non andava a buon fine decise di operarla il suo team dissero che aveva l'utero un po' malconcio ecco tutto marcio, usa questa espressione Veronica era necessario uno strappamento ma Pavone disse salviamo il salvabile e così fece, passa un mese dopo l'intervento e mamma è ancora ricoverata a casa sollievo della sofferenza, decide di alzarsi andare a ringraziare Gesù di essersi quindi svegliata, messa in piedi a terra di nuovo, va in cappella dell'ospedale vede il volto di Gesù con delle ragnatele c'erano delle ragnatele così con il poco fiato che aveva dopo l'intervento e per aver passato un mese a letto cerca di spostare quelle ragnatele dal viso il cuore di mamma ringrazia Gesù e disse se le mandava una figlia femmina l'avebbe chiamata Veronica come colei che ha pulito il viso è incoronata per devozione alla Madonna dell'incoronata di Foggia e dopo quattro mesi rimase incinta di me scrive Veronica il primario disse che ci voleva il riposo immediato e a lungo tempo in ospedale così si ricoverò di nuovo mamma riesce a passare nei primi mesi di concepimento la notte della veglia di settembre a San Giovanni Rotondo quella sera si accesero tantissime candele anche fuori al davanzare delle finestre dell'ospedale lo fece anche mamma mamma entra in un dormiveglia con le moltitudini di preghiere che si dicevano davanti al santuario di Santa Maria delle Grazie vede padre Pio che le tocca il suo grembo riesce a sentire proprio la sua mano e si addormenta sentendosi tranquilla e protetta quella mattina poi la mattina successiva entrò Pavone e vide che la sua candela non si era spenta come tutte le altre le altre due candele delle donne che erano ricoverate insieme a lei nella stanza si erano spente lo stesso Pavone accarezzò mamma e disse che quella candela è del baffone è vero riferendosi al papà che aveva i baffi le due donne invece abortirono involontariamente ma mamma continuò la gravidanza fino a nove mesi mi fecero nascere un po' di giorni prima perché il cordone umbilicale si stava cicatrizzando e l'8 aprile 1986 nacque in casa sollievo della sofferenza sono nata con una agenesia del braccio destro ebbene quando ero piccola avevo paura della gente che mi guardava avevo come un senso di vedere qualcosa in meno gli altri mi dicevano è un castigo di Dio e io ne soffrivo moltissimo perché amavo Dio con tutto il mio cuore cuore di bambina che non riuscivo a capire perché se l'era presa con me così mi addormentavo tutte le sere piangendo piangendo con la statua della madonnina tra le braccia i miei genitori non hanno mai abbandonato la fede anzi si sono avvicinati molto di più e mi insegnavano a credere e soprattutto mi insegnavano a pregare durante l'adolescenza con la frequenza in parrocchia conversando con Gesù ho capito che non mi ha tolto niente ma mi ha dato di più di altre persone che danno a volte tutto per scontato Gesù mi ha insegnato non ad accettare ma ad amare la mia sofferenza e soprattutto farla amare agli altri che credono che la sofferenza sia un calvario ho capito e ho chiesto perdono di aver capito tardi che il Signore ha creduto in me prima che mi inviasse al mondo a testimoniare la sua gloria sulla terra dopo di me i miei genitori hanno avuto altre due femmine e come disse mamma alla madonna tre figlie femmine si vedeva intorno e tre figlie femmine ha avuto sono felice, sono felice della mia vita, della mia missione ci racconta Veronica oggi conosco molte persone come me e anche delle mamme in attesa di bimbi come me faccio vedere loro cosa faccio anche se non è sempre una certezza che le cose le riesca a fare ma tento e ringrazio continuamente la gente mi ringrazia con le lacrime agli occhi perché guardandomi credono che i loro figli sapranno vivere al mondo io rispondo loro c'è un segreto non servono le braccia per fare le cose non servono le gambe per camminare serve solo Dio per brillare il segreto è far innamorare perdutamente del Signore i loro figli grazie a tutti